ciao a tutti benvenuti su pquad oggi parliamo di quest'ultimo capitolo su Dylan dog batman volume 3 di 3 e finalmente è finita dico finalmente perché ragazzi va non lo so non lo so è difficile dare un giudizio obiettivo ma cercherò di farlo perché amo entrambi i personaggi e questo crossover l'ho preso esclusivamente per i personaggi tant'è che io di zagor flash o natan never di justly justice league non li ho presi proprio perché questi crossover si sa sono fatti ai fini puramente commerciali e non hanno niente di di pregno niente di intimo niente di identitario se non propriamente una questione di marketing commerciale di vendita fondamentalmente è lo stesso vale per Dylan dog batman tanti anni d'attesa per vedere poi tre numeri finire come finiscono una storia con tanta carne sul fuoco ma che finisce in modo così cioè è molto repentina tre numeri per descrivere fondamentalmente niente e non mi è piaciuto e allora e andiamo in ordine andiamo andiamo in ordine l'apparato grafico di Dylan dog batman ovvero disegni chine colori ragazzi è qualcosa di straordinario cioè secondo me è quella è quella volta in cui tutto l'apparato grafico sormonta la parte di storia e non c'è da dire proprio non c'è paragone delle tavole meravigliose che secondo me quando faranno i volumi cartonati perché li faranno queste tavole renderanno veramente da dio sono spettacolari disegni chine colori ragazzi niente da dire anzi se vi va date un'occhiata all'intervista che ho fatto a giovanna nero sui colori proprio di Dylan dog batman capolavoro da un punto di vista di storia roberto orecchioni sicuramente sa fare il suo lavoro l'abbiamo apprezzato tantissima volta con delle storie bellissime su Dylan dog ma ma qui secondo me era partito secondo me benino poi si è un po' perso perché la storia non so a me non mi ha preso è molto fugace tanta roba come vi dicevo alcuni personaggi appaiono scompaiono senza motivo troppi personaggi che alla fine nessuno di loro viene strutturato bene ma bastavano secondo me due per farli emergere e far raccontare una storia molto più identitaria ecco secondo me la parola giusta è l'identità questo lavoro al di là dei personaggi famosissimi che conosciamo personaggi simbolo sia di Dylan dog sia di batman manca di una identità e quando un fumetto manca di una sua identità secondo me non c'è niente da dire perché il lavoro non è ben riuscito queste sono le mie considerazioni sicuramente dei di crossover in futuro che siano buonelli che siano marvel che siano dc io non prenderò più nulla perché veramente il gioco non va della candela se non se non per godere appunto di queste meravigliose tavole perché qui queste tavole non hanno bisogno di storia né di dialoghi perché si leggono benissimo da sole ma questo è un discorso differente guardate che belle ecco io parlerei solo di questo di delle tavole questa qui che è molta belle epoche richiama anche le illustrazioni di Toulouse-Lautrec che dire che belle guardate che belle c'è un lavoro eccezionale da questo punto di vista è meritevole con tanto di sketch gallery alla fine che sicuramente avete avete già visto non mi dilungo oltre perché il mio parere non cambia e fatemi sapere cosa ne pensate se l'avete letto e scrivetemi nei commenti anche le vostre riflessioni se prenderete altri crossover bonelli tra cui quello che verrà presumibilmente dragonero conan se avete preso quello in passato se ne prenderete altri differente differente il l'incontro tra i personaggi della stessa casa elettrice non cambia molto ma già il team up tra un personaggio bonelli e l'altro personaggio bonelli è differente perché avranno qualcosa di più vicino da raccontare dylan batman hanno molto in comune ma tanto 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 difficile da raccontare insieme con una storia veramente originale e che possa prendere in modo tale da raccontare di entrambi i personaggi non è semplice non è semplice comunque egregio lavoro di recchioni sicuramente perché sa scrivere ma il mio voto è raggiunge a malapena la sufficienza detto ciò nulla toglierò ovviamente a chi è piaciuto perché ci sta le letture sono soggettive e come tale giusto rispettare anche i pareri e i discorsi e i commenti dei lettori fondamentalmente ci sta vi ricordo e vi lascio qui il pulsantino che sotto ogni video trovate il pulsantino appunto grazie se vi va di supportare il canale con una piccola donazione a vostra scelta e supporterete anche la mia ricerca sul fumetto e su questo canale grazie al prossimo video ciao a tutti ciao